E' un'idea che viene da lontano, che risale a più di 16 anni fa. Un'intuizione del Santo Padre che da sempre considera i giovani un patrimonio inestimabile per la Chiesa Cattolica. E' la vigilia della Domenica delle Palme del 1984, l'anno santo straordinario della redenzione. E' 250.000 giovani che riempiono di vita e di gioia Piazza San Pietro, sono un segno da non trascurare. Ha perso il senso dei paroli. Resta qui con noi, il sole scende già. Senz'altro nasce quella sera, la vigilia delle Palme, nel cuore del Contepice, il desiderio inderogabile di stituire una giornata dedicata ai giovani di tutto il mondo, da celebrarsi annualmente a livello diocesano ed enfatizzata ogni due anni da un meeting a livello internazionale. Giornata dei giovani che introduce il nostro appuntamento con Caritas Insieme. Io dalla barca sono volato qui con Francesca Bentoglio, con la quale parliamo di giovani. Francesca Bentoglio è uno dei membri della pastorale giovanile della nostra diocesi e sarà coinvolta quest'anno nella giornata mondiale della gioventù che si svolge a Colonia, giusto? Sì, noi partiremo dall'11 fino a 22 agosto. Quindi non è una giornata ma in realtà sono una diecina di giornate. Sì, il cammino che propone la diocesi sono questi dieci giorni che finiscono proprio nel weekend in cui incontreremo il Papa, sabato e domenica. Ecco, ma perché bisogna fare delle giornate per i giorni? Vabbè, perché è piaciuto al Papa? Potrebbe già essere sufficiente, però i giovani sono una categoria reale, cioè in fondo la Chiesa è una realtà complessa fatta di bambini, di vecchi, di donne, di uomini. Perché ci vuole qualcosa per i giovani? La gioventù è un'età particolare della vita in cui si è molto aperti, in cui si hanno molte esporanze sul futuro, si ha tanta energia, tanta voglia di costruire, di fare. E credo che proprio l'intuizione del Papa è quella di dare una strada a questa energia, perché non si perda. Qualcuno ha pensato anche ai meno giovani, ai giovani un po' più, giovani adulti, diciamo così, e quindi ha organizzato un programma particolare. Ce lo racconta Roberto Porta. Sì, la nostra è un'idea che è nata nell'autunno scorso, ci siamo detti, ma perché non fare qualcosa per chi ha più di 30 anni, quindi per qualcuno che non è più ufficialmente giovane, o comunque non rientra nell'età prestabilita un po' da chi organizza la giornata mondiale della gioventù, e ci siamo detti, ma per attirare qualcuno che ha 30 anni, qualcuno che crede, ma anche chi non crede, perché non organizzare un itinerario religioso, ma anche culturale, alla riscoperta, diciamo, di quelle che vengono chiamate le radici cristiane del continente europeo. E abbiamo individuato un percorso su quattro tappe, dal Ticino verso Colonia, in cui per ogni tappa ci sarà un momento di riflessione, un momento di scambio di idee su problematiche e tematiche legate al cristianesimo. Per esempio la prima tappa sarà al monastero Cistercenze di Otriv, nel canton Friborgo, dove si affronterà, anche con l'intervento dell'abate Mauro Lepori, ci sarà una riflessione sulla preghiera, sull'importanza della preghiera, in una società che sembra avere un po' dimenticato il valore del dialogo con Dio. Poi da Otriv ripartiremo in treno, tutto il percorso è in treno, ripartiremo verso Strasburgo, una delle capitali europee, dove appunto con il nostro accompagnatore, diciamo così, spirituale e religioso, che sarà Fran Martino Dotta del convento dei Capuccini di Lugano, arriveremo appunto a Strasburgo, dove affronteremo in questa, che è una delle capitali politiche dell'Unione Europea, affronteremo appunto il discorso del cristianesimo, dell'apporto del cristianesimo alla storia del continente europeo, ripartiremo, resteremo due giorni, ripartiremo poi ancora una volta in treno verso Acquisgrana, città storica, città romana, dove tra l'altro è sepolto Carlo Magno, e lì ci sarà un altro momento di riflessione sull'impegno pubblico, l'impegno sociale del cristiano nella società di oggigiorno. Ognuna di queste visite sarà anche accompagnata da una visita, chiamiamola così, turistica, culturale, con delle guide locali che ci accompagneranno e ci spiegheranno quello che incontreremo sul nostro percorso. L'ultima tappa evidentemente sarà a Colonia, dove giungeremo il venerdì e ci aggregheremo al gruppo ticinese, in attesa del Papa, che arriverà poi sabato sera, ci sarà la veglia e la domenica, la messa come da programma classico di una giornata mondiale della gioventù. Ufficialmente le iscrizioni per la nostra iniziativa sono chiuse, chi volesse però aggregarsi anche all'ultimo momento lo può fare, cercheremo di trovare un posto, soprattutto un posto in cui dormire, anche per ritardatari, chiamiamoli così. Un'avventura sempre straordinaria, quella dell'incontro di tantissimi altri giovani in questa esperienza, ma poi resta qualcosa Francesca. Sì, io mi porto veramente nel cuore questi volti. Prima di tutto non sei solo, senti che nel mondo di cattolici ce ne sono. E poi questa ricchezza la senti proprio in tutto l'anno, le parole del Papa sono anche, per me sono state fondamentali in alcuni parti della mia vita, ci sono state le giornate mondiali della gioventù che mi hanno proprio illuminato, si può dire, non so come spiegare. In effetti ciò che rimane sono soprattutto impressioni, volti, ed è difficile spiegare la bellezza di queste giornate della gioventù, perché bisogna proprio viverle. Quindi non è possibile trasmetterle se non andandoci. Eh sì, io proprio l'invito a qualcuno di rischiare, perché quando ricevi un programma non è che hai idea di quello che potrebbe essere, ma viverle, essere lì in mezzo a questa folla, ma ti senti persona. Non sei uno fra tanti, il Papa sta parlando a te. E questa è l'emozione più grande, di sentire che quelle parole toccano il tuo cuore e non è che sei dentro una folla dove non vali niente, ma ti senti proprio invece valorizzato per quello che sei. Ecco, per capire qualcosa di più, vediamo ancora qualche immagine. Tutti insieme sulla via dell'amore, nessuno si tiri indietro. È l'esclamazione storica del Santo Padre, che l'anno dopo, il 30 marzo del 1985, davanti a 300.000 giovani di oltre 70 paesi di tutto il mondo, accorsi a Piazza San Giovanni in Laterano, sancisce ufficialmente l'inizio di una serie di memorabili incontri. E accogliendo simbolicamente tutti i giovani sotto il suo mantello, dal loro appuntamento nell'87 a Buenos Aires. Nell'Av. 9 de Julio, la strada maestra della capitale argentina, ci sarà un'invasione pacifica di giovani che si ripeterà puntualmente ogni due anni e interesserà Santiago de Compostela nell'89. anche qui, in questo monte di gozo, noce oscura, noce passata, buon giorno, Cesto Cova nel 91. Denver nel 93. Manila nel 95. la presentazione di QTSS John Paltu è un vecchio uomo. John Paltu! John Paltu! John Paltu! Come il Padre mi manda, quindi ti mando. Senti! Il fatto che vi troverete di fronte ad un Papa tedesco, cardinale, famoso per la sua grande rigidità, si dice, poi in realtà non è vero a quanto pare, ma una persona che ha gestito fino ad oggi la congregazione per la dottrina della fede. Ecco, secondo te si potrà rischiare anche con questo Papa di incontrarsi bene? Io ne sono certa. Mi ha stupito tantissimo ascoltarlo ai funerali di Giovanni Paolo II. All'inizio dicevo, non capirò niente. Avevo paura perché, conoscendolo, quando ero venuto a Lugano non avevo capito niente per dire. Mi sembrava veramente una persona talmente intellettuale che non poteva comunicare con gente semplice come me. Ma ascoltando le funerali mi ha talmente colpito la semplicità e il suo giudizio così lineare e mi ha mosso dentro. Quindi sono certa che riuscirà a comunicare con i giovani. Giornate della Juventù sono un'esperienza particolare e sono anche un'esperienza ricca di iniziative che le contornano. Una particolare iniziativa è quella di andare a Colonia in bicicletta. Ma sentiamo Don Rolando Leo che ce la racconta. Sì, è nata da qualche giro che abbiamo fatto in bicicletta con l'amico e con fratello Don Claudio Flisi. Lui è veramente un grande appassionato e mi ha trasmesso questa passione. Abbiamo fatto qualche giro negli anni scorsi durante l'estate con dei gruppi di giovani e meno giovani e allora si è detto accostiamoci a questa iniziativa mondiale, questo grande momento con i giovani proponendo un percorso, un itinerario ciclistico. Iscritti siamo una ventina. Abbiamo scelto dei momenti, abbiamo scelto una tematica sicuramente quella del pellegrinaggio ricordando i grandi pellegrinaggi storici, Roma, Gerusalemme, Santiago, San Giacomo di Compostella e ricordando che l'uomo è in cammino, quindi questo pedalare perché è naturalmente una versione moderna di pellegrinaggio è proprio simbolo dell'esistenza dell'uomo, dell'avanzare dell'uomo che non è mai minuto dopo minuto nel medesimo punto ma progredisce, cresce, si pone delle domande. C'è qualche tappa significativa che farete? Dunque, noi partiremo da Bellinzona, la tappa significativa direi che è la prima perché faremo il lucomagno e qui non bisogna spaventarsi nel senso che la tappa numero uno si fermerà a Disentis e lì saremo alloggiati spesso i nostri alloggi sono in case religiose, conventi, in questo caso la foresteria del monastero oppure ostelli avremo sicuramente un paio di giorni, anche questa è una bella tappa anche culturale interessante a Strasburgo, a Strasburgo ci fermeremo appunto circa a metà giro, saremo a metà agosto lì dopo aver passato San Gallo, Donauschingen in Germania, si sconfinerà appunto in Alsazia dove avremo la possibilità di riposare prima di tutto una giornata dove ci sarà un momento di riflessione anche un po' più lungo e un momento di svago anche un momento in cui non saremo in sella ma gireremo, passeggeremo insieme e poi ci si avvicinerà pian pianino tornando in Germania alla tappa finale. Dieci giorni di giornate, più in dettaglio puoi raccontarmi qualcosa? I primi giorni siamo appunto nella diocesi di Treveri e quest'anno, diversamente anche degli altri anni l'intenzione era tutti gli svizzeri nella stessa diocesi per potersi anche incontrare prima di andare a Colonia tutti insieme, per continuare l'esperienza di Berna dell'anno scorso. Ecco perché il cammino delle giornate mondiali è un pellegrinaggio che di fatto dura tutto l'anno, cioè non sono solo quei giorni lì. Sì, ci sono anche le giornate mondiali nelle diocesi e a partire poi delle giornate mondiali alla gioventù è nato un comitato svizzero di giovani e quindi c'è un desiderio di camminare insieme tra le varie giornate mondiali alla gioventù, il desiderio di creare dai giovani un'unità anche a livello svizzero è veramente un bel cammino. Quindi a Treveri speriamo di poterci incontrare, adesso lascio ancora la cosa aperta perché non siamo sicuri. E dopo partiremo il 15 per andare a Colonia e le giornate nella città di Colonia sono formate da momenti di catechesi al mattino e i festival della gioventù al pomeriggio. Cosa è il festival della gioventù? Il festival della gioventù non è che sia spiegato tantissimo ma io mi ricordo degli altri anni. Ogni movimento, comunità organizza nella città degli avvenimenti, degli spettacoli, testimonianze e quindi i giovani a gruppetti decidono dove vogliono andare, il Genfest oppure andare alla preghiera di Tesee ed è bellissimo perché si tratta in quel festival della gioventù proprio di incontrare le varie realtà della chiesa. La giornata della gioventù continua qui in Svizzera con un appuntamento subito dopo? Noi ticinesi siamo invitati tutti con il Vescovo alla salita del Monte Tamaro il 10 di settembre che quest'anno essendo proprio così vicino alla giornata mondiale della gioventù sarà proprio il momento di testimonianza, cioè racconteremo a quelli che non sono potuti venire ciò che abbiamo visto e udito. Le iscrizioni però sono chiuse, non ci può più venire nessuno adesso. Sì, sono chiuse. Erano tre proposte, 10 giorni, era il pacchetto più completo che comprende proprio la proposta che facevano proprio per le giornate mondiale della gioventù, i giorni di Cologna che partono appunto dal 15 fino al 22, un pullman parte solo per partecipare a queste giornate nella città e poi un gruppetto abbastanza sostanzioso di giovani che vengono proprio solo per il weekend quindi partiranno venerdì e si aggiungono a noi. Ma se proprio qualcuno può provare a telefonare in segretariato? Bene, abbiamo voluto allargare il discorso e l'abbiamo fatto con il nostro Vescovo a proposito della presenza del Santo Padre in Germania, un Papa tedesco che parla ai tedeschi in una terra difficile per quello che è i rapporti della Chiesa Cattolica con le altre confessioni, il luogo dove è nata la riforma, ha avuto la sua più grande espansione, la riforma protestante. Che senso ha un Papa lì e che coincidenza straordinaria è questa? Quello che viene chiamato una coincidenza o una casualità cerchiamo di leggerlo come un disegno della provvidenza. Il Papa avrebbe potuto essere asiatico, africano o sudamericano. è stato scelto un Papa europeo e un Papa tedesco che si presenta al suo primo grande appuntamento pubblico nella giornata mondiale della gioventù che si tiene a Colonia. Io vedo in questo un segno della provvidenza. È l'Europa che ha bisogno di essere aiutata nel suo progressivo secolarizzarsi. È l'Europa che più di altri continenti conosce la conflittualità ecumenica, soprattutto in terra tedesca, dove è nato la primo grande distacco dalla Chiesa di Roma di masse riformate. Mi pare di poter vedere questa coincidenza, un importante segno della provvidenza che ci offre un Papa che conosce bene le problematiche dell'Occidente europeo in particolare e che nei suoi primi interventi ha dimostrato una tenacia resistente nel voler cercare il dialogo e il superamento delle divisioni tra i cristiani. Mi pare davvero anche da questo punto di vista che la scelta del Cardinal Ratzinger sia un grande dono alla Chiesa. Il Cardinal Ratzinger, che però è quello che ha firmato la Domino Siesus, su un'enciclica che definisce molto bene il primato della Chiesa Cattolica, lo riafferma e quindi cosa ne dice il nostro Vescovo rispetto a un dialogo possibile, reale con le altre Chiese? Ma mi pare che l'unità dei cristiani non possa avvenire che sulla roccia, sul fondamento che è Gesù Cristo, quindi l'avere riaffermato il fondamento che è Cristo e la centralità di Cristo non può che favorire l'autentico ritorno di tutte le confessioni cristiane all'unico Signore che solo può fare l'unità. Sulle parole del nostro Vescovo si conclude la nostra puntata di Caritas Insieme TV. Io vi do appuntamento la settimana prossima dove presenteremo la nostra rivista, la nostra rivista che è già online e che presto sarà anche nelle case in formato cartaceo. Buona settimana! Grazie a tutti!